Carissimi amici e amiche, do a tutti il benvenuto o il bentornato a questo ciclo di catechesi dedicato all'approfondimento del cammino di conversione strepitoso e stupendo di Maria di Magdala, vedo attraverso gli scritti di Maria Valtorta, figura come chi mi conosce sa a me particolarmente caro, ci siamo lasciati la volta scorsa con quella visita di Gesù alla casa di Lazzaro e poi con un ascolto di nascosto da parte di Maria di Magdala e ci siamo lasciati così. Oggi abbiamo un nuovo paragrafo che andiamo a leggere subito senza troppi preamboli, ancora situato all'interno della casa di Lazzaro. Un bellissimo dialogo che adesso andiamo a gustarci all'inizio di questa nuova puntata. Sarà redenta per la forza del suo amore, è il titolo. Gesù passeggia assorto nel bel giardino della casa di Lazzaro a Betania, mentre all'interno si preparano le mense per la festa delle incenie. Lo raggiunge Simone Lozelote. Maestro, Lazzaro ti prega di venire, tutto è pronto. Andiamo e così cada anche l'ultimo dubbio che io li ho meno cari per causa di Maria. Quanto pianto maestro! Solo un tuo segreto miracolo ha potuto medicare quel dolore, ma non sai che Lazzaro fu per fuggire dopo che ella al loro ritorno uscì di casa dicendo che lasciava i sepolcri per la gioia e altre insolenze? Io e Marta lo abbiamo scongiurato a non farlo anche perché non si sa mai la reazione di un cuore. L'avesse trovata, io credo che l'avrebbe punita una volta per tutti, per tutte. Avrebbero voluto almeno in silenzio da lei su te. Interviene Gesù. È l'immediato miracolo di me su lei e l'avrei potuto fare. Ma non voglio una risurrezione forzata nei cuori. Forzerò la morte e mi renderà le sue prede perché io sono il padrone della morte e della vita, ma sugli spiriti che non sono materia, che senza soffi è piena di vita, ma sono immortali essenze, capaci di risorgere per volontà propria, io non forzo la risurrezione. Do il primo appello e il primo aiuto, come uno che aprisse un sepocro dove uno fu chiuso malvivo e dove morirebbe se a lungo rimanesse in quelle tenebre asfissianti e lascio entrare aria e luce. Se lo spirito è voglioso di uscirne, esce. Se non vuole così, si infosca ancora di più e sprofonda. Ma se esce, oh se esce, in verità ti dico che nessuno sarà più grande del risorto di spirito. Solo l'innocenza assoluta è più grande di questo morto che torna vivo per forza di proprio amore e per gioia di Dio, i miei più grandi trionfi. Allora, amici miei cari, qui mi perdonerete. Qui potremmo mettere punto e basta per questa sera. Dico soltanto perché il passaggio di questo passaggio è una delle cose proprio che non è che è fondamentale di più. E tra l'altro descritto con quella bellezza, con quella classe, con quella, non so neanche come definirla, con quel modo di esprimersi proprio del Signore è ancora più bello. Non voglio una risurrezione forzata nei cuori. Ho detto tante volte, anche in altri contesti, che noi di Dio possiamo veramente conoscere non tantissime cose. E ho detto anche tante altre volte che, per certi aspetti, come hanno fatto peraltro a notare alcuni maestri di spirito, sapete che succede con Dio? Più ti avvicini, è come quando ti avvicini al sole, più ti avvicini è più la luce t'abbaglia. Quindi dici, ma se mi avvicino lo conosco di più. Va a leggere scritti dei grandi mistici, San Giovanni della Croce, Santa Teresa. Mica tanto, perché la luce t'abbaglia. Quindi ci sono poche cose che sono proprio patrimonio certo. Allora, una è questa qui. Non voglio una risurrezione forzata nei cuori. Non voglio una risurrezione forzata nei cuori. Dio ci lascia liberi. Qui Gesù descrive in termini plastici, in termini esistenziali, dinamici, in termini esistenziali, quindi applicati agli esempi concreti delle persone, quello che dice il trattato di grazia. Cioè la conversione di una persona non è possibile se non c'è un input dall'altro, una grazia. E qui Gesù se lo dice. Do il primo appello e il primo aiuto. Perché dai sepolcri, da soli, non usciremo mai. Quando una persona commette un peccato mortale, spiegava San Tommaso d'Aquino, e questo ricordiamocelo bene, ecco perché si va all'inferno. Ed ecco perché è una pazzia che più pazzia non si può. Non si sa quante volte l'ho detto, da 15 anni che sto facendo le catechesi online a oggi. Quando tu pecchi mortalmente, tu perdi la grazia di Dio e ti consegni nelle mani di Satana. Da quelle mani tu non ti potrai liberare mai più. Capite? Cioè anche in questo mondo, dice Manu, in questo mondo abbiamo il libero arbitrio. Sì, sì. Ma una volta che tu ti consegni nelle mani di Satana, date a studiare la teologia, tu non ne esci con le gambe tue. Ne esci, anche se noi di questa cosa qui non ne abbiamo esperienza, come dire, tangibile. Perché il nostro Signore ti fa una grazia. Tu non ti vai a confessare se il nostro Signore non ti dà il primo appello, non ti richiama, non ti sveglia la coscienza e non ti volge verso di Lui, come si dice in teologia. Non ci andrai mai. Quindi, capite il senso di cui sto dicendo questa cosa? Capite che con un peccato mortale, di persone uno è già dannato, perché non ne uscirà mai. Perché ne esci soltanto se Dio ti dà la grazia. E senza la grazia di Dio, nessuno di noi può competere contro Satana. Nessuno. Ma vi siete mai chiesti perché non esce nessuno dall'inferno, scusate? Ma che pensate che le anime dannate non vorrebbero andarsene via? Ma provaci. Vedi se ci riesci. Prova. Non ci riesci. Capite che guai. Non voglio una risurrezione forzale. Le anime, dice Gesù, sono immortali e sono capaci di risorgere per volontà propria. In che senso? Da soli no. Quindi il nostro Signore ti mette nelle condizioni, ma lo devi decidere tu, eh? Lo devi, e Dio vuole che lo decida tu. Non forza di risurrezioni. E Dio non vuole nessuno che stia dalla sua parte per forza. Sotto costrizione. Sotto violenza. Sotto ricatto. No, no. Dove non c'è libertà, questo io rendo piccolo omaggio al mio amico Don Fabio Rosini, amico insomma adesso da tanti anni che non ci frequentiamo più, che l'ho sentito dire giustamente in una catechesi, se non ti lascia libero non è Dio. Se non c'è libertà, non stai muovendoti in un orizzonte caratterizzato dalla presenza di Dio. Questo non vuol dire che una persona, cioè che non sia, che sia un Signore, libertà significa, faccio quello che mi pare, spero che ci stiamo capendo, no? Quindi Gesù dà il primo input, poi attende, ma proprio attende, cioè Dio vede, vediamo che fa, che fa, e dice, guarda che se lo spirito è voglioso di uscirne, esce, per cui sta dicendo, guardate che chi non esce, ecco perché chi andrà dannato, tanto attenti che una delle bestemmie più grandi che si possano dire, nessuno la pensa, non solo se nessuno la dica, ma nessuno la pensa, è dire che un'anima dannata attribuere la colpa di questa a Dio, o addirittura anche al diavolo, perché sapete di chi è la colpa della dannazione? è uno solo il soggetto colpevole, è dannato, il diavolo fa il lavoro suo, lui è buono solo a fare quello, e Dio fa il suo, in mezzo ci stiamo noi, con la nostra libera volontà, e noi dobbiamo fare il nostro, dobbiamo fare il nostro, imparare a fare le scelte, assumerci le responsabilità, lo capisco io tante volte, vorrei io stesso che non fosse così, perché a volte dinanzi a snodi di vita, a scelte impegnative, a bivi, a situazioni dove tu capisci, se io adesso vado da questa parte, mi si chiude una porta dietro, e sta porta poi non si riaprirà, non è un passaggio reversibile, e ne senti il peso, non è che non lo senti, ma funziona così, e non possiamo scaricare su altri, le scelte sono le nostre, una persona che ti vuole bene, potrà darti qualche criterio, qualche orientamento, non scegliere al posto tuo, e noi non dobbiamo nemmeno andare, a cercare chi scelga al posto nostro, chi ci aiuti sì, chi ci schiavizzi a nostra volta, no, quindi se lo spirito è voglioso di uscirne, esce, se non vuole così, si infogna, si infosca ancora di più, sprofonda, qui Gesù sta parlando dei grandi peccatori, io ho avuto la grazia, figlioni miei cari, vi assicuro, di vedere tante risurrezioni, sotto gli occhi miei, sotto gli occhi miei, è una grazia grande, io rimango sempre esterrefatto e senza parole, esterrefatto e senza parole, ma ne ho viste tante, quindi se esce, uh, dice Gesù, se ne esce alla grande, quindi se un peccatore si converte, che si converte, non fuffa, che si converte, che la pianta, e io vi dico, con la mia esperienza, per carità, io non sono nessuno, ma con l'esperienza vissuta, quando un peccatore si converte, vero? Accetta tutto, tutto, tu gli puoi dire qualunque cosa, gli puoi fare qualunque l'improvero, puoi presportargli qualunque tipo di percorso penitenziale, tutto, tutto, perché quando la volontà è risoluta, quando una persona comincia a trattuzigare un po', conversione non piena, probabilmente, adesso vedremo, guardate che Maria di Magdala, lo sappiamo tutti quanti, è stata la prima dopo la Madonna certamente anche se i Vangeli non lo dicono a vedere Gesù risorto non l'ha toccato e vedremo perché perché Gesù lo spiega molto bene negli scritti di Maria Valtorta perché dando un'interpretazione autentica ma è la prima d'averlo visto insomma non è mica uno scherzo vedere per il primo di Gesù risorto e Maria di Magdala era stata una peccatrice era una che si dava alla vita era una che andava a uomini per diletto con un sacco di soldi non era una prostituta non è che si faceva pagare gli piaceva la bella vita quella che si chiama così sono le grandi conversioni dice superiori a questo c'è solo evidentemente l'innocenza assoluta ma un tasso di innocenza non capite l'anima tiepiduccia che si non hanno fatto qualcuno di peccati ma non troppi forse non troppo grossi quindi no no anche nel corso della storia della Chiesa certo di Vergine Maria ce n'è soltanto una però ci sono stati dei come dire dei dei gigli dei tesori di santità delle anime veramente meravigliose penso alla Santa Gemma penso a Luigi Gonzaga tanto per San Domenico Savio cioè gente che stava su un altro pianeta gente che non ha fatto sicuramente mai nemmeno un peccato mortale ma forse neanche un peccato veniale il confessore di Santa Gemma diceva questo dopo dopo morta che lei si confessava una volta settimana in lacrime confessando solo in perfezione e quasi tutti involontari a far a comprendere anche voi capite quella era un essere umano segnata dal peccato originale come noi tormentata in maniera veramente fastidiosa violenta dal diavolo capite il potere anche della nostra libera volontà certo che è ferita dalla dalla colpa d'origine per carità il volontarismo e il pelagianesimo sono due eresie però sostenuta dalla grazia che mai manca è insomma è insomma scusate se mi sono dilungato ma questo noi andiamo a studiare a studiare a gustarci la vicenda di Maria di Magdala e Gesù che parla vivissima vivissimi sverbis ecco quindi con parole vive per essere ovviamente edificati e rafforzati nelle nostre convinzioni prelatti cooperative di fede andiamo avanti guarda il cielo Simone qui sta parlando con Simone lo zelote che abbiamo già capito inquadriamo Simone lo zelote che era amico di Lazzaro e quindi spesso da casa di Lazzaro c'era anche lui e questa è una cosa che non si sa dai Vangeli ma nel gruppo apostolico diciamo che dopo Giovanni diciamo come 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 almeno apparente stima no? tant'è vero che ve lo vedremo perché se ne parla dopo cioè Simone lo zelote questi Vangeli non lo dicono dopo Giovanni che si è regato ai piedi della croce è quello che fa la migliore figura nel gruppo apostolico e Gesù gli affida degli incarichi a lui e a Lazzaro quindi va bene guarda il cielo Simone tu vedi in esso stelle e stelline pianeti di diverse grandezze tutti hanno vita splendore per Dio che li ha fatti e per il sole che li illumina ma non tutti sono ugualmente splendidi e grandi anche nel mio cielo sarà così tutti i redenti avranno vita per me tutti e splendore per la mia luce ma non tutti saranno ugualmente splendidi e grandi taluni saranno una semplice polvere d'astri come quella che fa latte a Galatea e saranno quelli innuerevoli che dal Cristo avranno avuto meglio avranno aspirato solo quel minimo indispensabile per non essere dei dannati e soltanto per l'infinita misericordia di Dio e dopo lungo purgatorio verranno al cielo qui parla di innumerevoli quindi i salvi per rotto della cuffia si dice a Roma o altri saranno più fuggili e formati qui più si sale e più chiaramente i numeri si stringono saranno i giusti che avranno unito la loro volontà nota volontà non buona volontà al volere di Cristo e avranno udito per e avranno ubbidito per non dannarsi alle mie parole quindi allora ci sono i peccatori che per il rotto della cuffia non vanno all'inferno poi ci sono quelli che più per paura della dannazione che per altro qualcosa l'ascoltano poi vi saranno i pianeti però chi sono le buone volontà qui ho voglia cambiare traduzioni pace in terra agli uomini di buona volontà pax in terra pax pax o minibus buone volontatis negli scritti di Maria Valtorta non sapete quante volte Gesù insiste su questa cosa sulla buona volontà la buona volontà è la volontà che è indirizzata al bene che cerca il bene che desidera il bene oh dice questi splendidissimi della luce di puro diamante o di gemme o splendore da diversi colori rossi di rubino violacee da metista biondi di topazio candidi di perle e qui Gesù immediatamente interpreta questi simboli adesso li leggo e poi facciamo gli accoppiamenti gli innamorati fino alla morte per l'amore i penitenti per amore gli operanti per amore e gli immacolati per amore quattro allora rossi di rubino sono gli innamorati fino alla morte per amore le anime innamorate violacee da metista le anime penitenti o essere penitenti è una virtù non date retta in giro a tutte le scretinate che vengono dette la penitenza è una virtù i santi non erano malati di mente che si sottoponevano a penitenze che quando noi le leggiamo ci fanno prendere un colpo e se qualcuno le facesse oggi le andasse a dire in giro le porterebbero al manicomio ma non erano malati di mente loro siamo malati di mente noi poi biondi di topazio gli operanti per amore domani la festa di san vincenzo di paoli e poi candidi di perle gli immacolati per amore chi custodisce la verginità e la purezza con un tesoro intemerato non è la stessa cosa custodirlo oppure no adesso va bene Maria di Magdala carità ma non è la stessa cosa e ve ne saranno alcuni di questi pianeti che avranno in loro bagliori di tutte e quattro di rubino di ametista di topazio di perla perché tutto saranno per amore saranno dei grandi innamorati saranno dei grandi penitenti saranno dei grandi operatori e saranno dei grandi immacolati tutti e quattro insieme eroici per giungere a perdonarsi di non aver saputo amare prima penitenti per saturarsi di espiazione come Esther come Esther prima di presentarsi ad Assuero si saturò di aromi instancabili per fare in poco quel poco che loro resta quanto non fecero negli anni che spersero nel peccato e puri all'eroicità fino all'eroicità per dimenticare anche nelle viscere oltre che nell'anima e nel pensiero che vi ha un senso non lo sta dicendo a loro ma sta parlando di quello che sarebbe diventata Maria di Magdala perché Maria di Magdala questo sarebbe diventata proprio questo saranno quelli che attireranno per il loro multiforme splendore gli occhi dei credenti dei puri dei penitenti dei martiri degli eroi degli asceti dei peccatori e per ognuna di queste categorie il loro splendore sarà parola risposta invito assicurazione capito qual è il segreto di questi ma cosa dirà Gesù a Maria di Magdala qua già capiamo tutto ne sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato molto amato tutto saranno per amore molto amato chi molto amato chi Gesù Dio primo comandamento la virtù delogale della carità ha come oggetto diretto e immediato Dio secondariamente ha come oggetto il prossimo sta cosa io la ribadisco perché guardate che nella testa della gente non c'è quando sentono la parola carità immediatamente capiscono quando capiscono bene l'amore al prossimo quando capiscono male la carità significa dare 50 centesimi non di più che dopo so troppi a quel poveraccio che ti scoccia per levartelo dai piedi che ti lava il vetro dal semaforo questa sarebbe la carità la virtù più grande di tutte secondo San Paolo tra qualche giorno nella festa di Santa Teresina tanto so che si stava impazzendo sapete la storia di Santa Teresina che voleva stiamo in monastero diciamo in monastero però immorriamo la vita al Signore no però vorrei pure una missionaria a portare il Vangelo in tutto il mondo no però vorremmo rimartire sa che è bello versare il sangue per il Signore non sapeva che santo votasse dice ma io così il posto mio non lo trovo mai io voglio essere tutto e a un certo punto tiene l'ispirazione c'è la Chiesa c'è un cuore bruciato dall'amore se questa fornace si dovesse spegnere alla fine perché i martiri non versano il sangue i predicatori non predicano più il Vangelo perché chi te lo fa a predicare il Vangelo chi te lo fa se non l'amore verso il Signore e verso le anime i martiri in monastero di Closura c'è nessuno perché chi te lo fa fare è andata a seppellire vivo quindi l'amore è il cuore della Chiesa ah ho trovato finalmente la mia vocazione ho trovato finalmente la mia vocazione è l'amore nel cuore della Chiesa io sarò l'amore ma andiamo noi parliamo e là ci attendono dice Gesù è che quando tu parli si dimentica di essere vivi posso dire tutto questo a Lazzaro dice Simone mi pare che in esso ci sia una promessa guardate Simone Simone era un altro grande peccatore l'ho già detto la volta scorsa un uomo provato dalla vita e di brutto un uomo guardate segnato dalla lebra quindi provato una fatta e tante e suonato dall'altissimo con una insomma di quelle di quelle botte insomma prenderti la lebra è tanta roba Gesù gli risponde dice lo posso dire Gesù risponde lo devi dire nel testo devi è in è in corsivo quindi vuol dire che Gesù ha calcato su questa parola lo devi dire la parola dell'amico può posarsi sulla loro ferita e non arrossiranno di essere arrossiti davanti a me ti abbiamo fatto attendere Marta ma parlavo a Simone di stelle ci siamo dimenticati di queste luci veramente la tua casa è un firmamento questa sera dopo aver dato il saluto di pace agli ospiti tra i quali sono i pastori che lo adorarono neonato entra con tutti nella sala delle menze splendente di Lumi quindi sono arrivati anche i pastori che avevano adorato Gesù Marta sorveglia la disposizione dei posti e vorrebbe stare in piedi ma Gesù si impone oggi non sei l'albergatrice sei la sorella e ti siedi come se mi fossi di un sangue siamo una famiglia cadano le regole per dare posto all'amore qui al mio lato è presso di te Giovanni io con Lazzaro ma datemi un lume fra me e Marta vegli una luce una fiamma per le assenti eppure presenti per le amate le attese per le donne care e lontane tutte la fiamma ha parole di luce l'amore ha parole di fiamma e vanno lontano queste parole sull'onda incorpora degli spiriti che si trovano sempre oltre monti e mari e portano pace e benedizione portano baci e benedizione tutto porta non è forse vero Marta posa la lampada dove Gesù vuole ad un posto che resta vuoto e poiché Marta capisce si curva a baciare la mano di Gesù che poi si posa sulla testa bruna benedicente e riconfortante adesso passiamo ad un altro paragrafo un paragrafo un po' un po' un po' il titolo del paragrafo è affronta Gesù che sta parlando sulla montagna quindi promette scintille questo paragrafo nel suo secondo anno di vita pubblica quindi vedete che la re di Magda non è che si è convertita subito Gesù per sei giorni consecutivi parla a molta gente sul monte che sovra la stella di Tiberiade a amici bisogna andarlo a vedere chi non c'è stato faccia una passeggiata perché ne vale la pena alla fine del sesto giorno accade un fatto che lo porterà ad abbandonare quel luogo non potendo permettere che la parola di Dio sia fatta scherno di pagani attenzione quale sarà questo monte quale sarà questo discorso dai facile no il discorso della montagna le beatitudini no tutto ciò che ne consegue il discorso già cominciava da un po' capisco che è il discorso della montagna ma le beatitudini sono già enunciate anzi direi che il discorso si avvia alla fine perché Gesù dice fate questo e ne avrete gran premio perché il padre che è nei cieli è misericordioso che è buoni e sa dare il cento dove io vi dico puntini puntini molto movimento avviene tra la folla che si assiepa verso il sentiero che sarà il pianolo le teste dei più prossimi a Gesù si voltano l'attenzione si svia Gesù sospende di parlare e volge lo sguardo nella direzione degli altri è serio e bello nel suo abito azzurro cupo con le braccia conserte sul petto e il sole che lo sfiora sul capo col primo raggio che sormonta il picco orientale del collo fate largo plebei grida una iraconda voce di uomo fate largo la bellezza che passa e vengono avanti quattro belli imbusti tutti azzimati di cui uno è certo romano perché è la toga romana i quali portano come in trionfo sulle loro mani incrociate a sedile Maria di Magdala gran peccatrice ancora e lei ride con la sua bellissima bocca buttando indietro la testa dalla capigliatura d'oro tutta in trecci e riccioli trattenuti da forcine preziose e da una lamina d'oro sparsa di perle che le fasce del sommo della fronte come un diadema dal quale scendono ricciolini lievi a velare gli occhi splendidi di loro e rese ancora più grandi e seduttori da un sapiente artificio mi raccomando le donne contemplino e pensino il diadema poi si perde dietro le orecchie sotto la massa delle trecce che pesano sul collo candidissimo e scoperto tutto anzi puntini puntini lo scoperto va molto oltre il collo le spalle sono scoperte fino alle scapole e il petto molto più ancora la veste è trattenuta sulle spalle da due catenelle d'oro le maniche non esistono ovviamente perdonatemi un po' di ironia sarcastica cattiva non abbiamo mai visto in giro roba del genere oggi di questi tempi qui i tempi sono cambiati queste robacce in giro non si vedono perdonatemi un po' di ironia sarcastica perché vabbè le maniche non esistono fuori dall'ironia sarcastica a me capire di vedere questi spettacoli anche davanti al Santissimo Sacramento però li vedo soltanto per un istante perché dopo invito le persone alla copertura o alla fuoriuscita però intanto il tutto è coperto per modo di dire da un velo che ha il solo incarico di riparare la pelle dall'abbronzatura del sole la veste è molto leggera e la donna buttandosi come fa per vezzo contro l'uno o l'altro dei suoi adoratori è come se ci si buttasse addosso nuda quindi evidentemente ho l'impressione che il romano sia il preferito perché a lui vanno di preferenza risatine occhiate e più facilmente riceve il capo di lei sulla spalla ecco accontentata la dea dice il romano Roma ha fatto da cavalcatura alla venere novella e là è l'Apollo che è voluto vedere seducilo dunque ma lascia anche a noi briciole dei tuoi vezzi Maria ride commossa agile e procace balza a terra scoprendo i piedini calzati da sandali bianchi con fibbie d'oro e un bel pezzo di gamba poi la veste che è amplissima di una lana sottile come vero e candidissima trattenuta alla vita ma molto in basso verso i fianchi da un cinturone tutto a borchie d'oro snodate copre tutto e la donna sta come un fiore di carne un fiore impuro sbocciato per sortileggio sul verde pianoro in cui sono mughetti e narcisi selvatici in gran quantità è bella più che mai la bocca piccola e porporina pare un garofano che sbocci sul candore della dentatura perfetta il volto e il corpo potrebbero accontentare il più incontentabile pittore oscuro sia per tinta che per forme ampia di petto e di fianchi in misura giusta con una vita naturalmente flessuosa e sottile rispetto ai fianchi e al petto pare una dea come ha detto il romano una dea scolpita in un marmo levemente rosato su cui si tende la stoffa lieve sui fianchi per poi ricadere in una massa di pieghe sul davanti tutto è studiato per piacere è qui inciso notare sempre come Maria Valtorta fa una descrizione del genere e ti pare di vedertela davanti ok Gesù la guarda fisso e lei ne sostiene con spavalderia lo sguardo mentre lì ride e si torce lievemente per il solletico che il romano le fa scorrendolo sulle spalle e sul seno che ha scoperti con un mghetto colto fra l'erba Maria con un corruccio studiato e non vero rialza il velo dicendo rispetto al mio candore il che fa scoppiare i quattro in una fragorosa risata Gesù la continua a fissare appena il rumore delle risate si perde Gesù come se l'apparizione della donna avesse riacceso fiamme al discorso che si assopria nella finale riprende e non la guarda più quel non la guarda più è scritto in corsivo ma guarda i suoi auditori che paiono impacciati e scandalizzati per l'avvenuto e adesso sentite perché adesso questo me lo ricordo parla la folla ma fa nera Maria di Magdala lo ricordo molto bene questo particolare ho detto di essere fedeli alla legge Gesù sta riprendendo a parlare umidi misericordiosi di amare non solo i fratelli di sangue ma anche chi vi è fratello solo perché è nato come voi da uomo vi ho detto che il perdono è più utile del rancore che il compatimento è migliore dell'inesorabilità ma ora vi dico che non si deve condannare se non si è esenti dal peccato per cui si è portati a condannare non fate come scrive i farisei che sono severi con tutti ma non con se stessi che chiamano impuro ciò che è esterno e può contaminare solo l'esterno e poi accolgono nel più fondo seno il cuore l'impurità Dio non è con gli impuri perché l'impurità corrompe ciò che è proprietà di Dio le anime e specie le anime dei piccoli che sono gli angeli sparsi sulla terra guai a quelli che strappano loro le ali con crudeltà di belve demoniache e prostrano questi fiori di cielo nel fango facendo loro conoscere il sapore della materia guai meglio sarebbero morissero arsi da un fulmine anziché giungere a tale peccato mi fermo un attimo queste parole di Gesù sono di un'attualità sconcertante io spero che tutti quelli che ascoltano abbiano occhi o orecchie soprattutto amici facciamo un patto insieme alla fede facciamo funzionare gli occhi le orecchie e il cervello mi raccomando abbiamo capito che i nostri poveri ragazzini sono oggetto di un attacco satanico come non c'è mai stato forse da che il mondo è creato abbiamo capito che un ragazzino di tre anni può subire le cose che sta dicendo Gesù qui la corruzione capiamo che dobbiamo stare non attenti ma centomiliardi di volte attenti per risparmiare a questi poveri poveracci per quanto possibile il contatto quanto meno precoce con il mare di fango che ci circonda capiranno i genitori che specialmente oggi come si fa a lasciare che i figli frequentino certi ambienti come si fa a mandarli in qualche scuola qualunque sia senza essersi prima informato è dovere oggi farlo lo è sempre ma oggi più che mai che cosa gli insegnano a scuola ai vostri figli forse noi pensiamo che se rimandiamo in un ambiente dove gli insegnano una marea di corruzione noi forse in qualche modo potremmo riparare potremmo non si può chi fa queste cose se la vedrà è di brutto con la divina giustizia perché giù le mani dai bambini però purtroppo chi è incaricato alla tutela dei bambini e sono il padre e la madre devono stare attenti a me dispiace dire queste cose non vorrei mettere Gesù ha citato dei farisei non vorrei certamente andare a caricare di pesi insopportabili i cuori delle persone però ad esortarli e ad ammorirli devo farlo per forza perché a volte si assiste anche nelle anime buone a un come dire a un pezzo ma si ma che gli fa ma si ma tutto sommato non si può perché poi una volta uno è corrotto è corrotto certo che potrebbe pentirsi ma cerchiamo di impedire che si corrompa se ce la facciamo Gesù prosegue quindi vedete che anche Gesù ogni tanto assumeva toni come dire un po' diciamo così lontanamente somiglianti a San Giovanni Battista eppure era la dolcezza e la misericordia fatta carne guai a voi ricchi e gaudenti perché è proprio fra voi che fermenta la più grande impurità a cui fanno letto e guanciale ozio e denaro ora siete satori fino alla gora vi arriva il cibo delle concupiscenze e vi strozza ma avrete fame una fame tremenda insaziabile e senza addolcimento in eterno ora siete ricchi quanto bene potreste fare con la vostra ricchezza ne fate tanto male per voi e per gli altri conoscerete una povertà troce in un giorno che non avrà fine questa è la variante delle beatitudini di Luca con i guai ora ridete ricordate guai a voi ricchi perché avete già la vostra consolazione guai a voi che ora siete sazi perché avete fame guai a voi che ora ridete perché piangerete riprendo le parole di Gesù ora ridete credetevi essere trionfatori ma le vostre lacrime empiranno gli stagni della genna e non avranno più sosta dove si annida l'ulterio dove corruzione di fanciulle chi ha due o tre letti di licenza oltre il proprio disposo e su essi profonde il suo denaro e la vigoria di un corpo che Dio gli ha dato sano perché lavori per la sua famiglia e non si spossi in luridi connubi che lo mettono al di sotto di una bestia immonda abbiamo capito il vocabolario che usa Gesù non mi sembra molto politicamente corretto io già lo vedo qualche novello cieco similfarisaico che dice cos'è questo linguaggio un po' troppo forte ma così si manca la carità luridi connubi che lo mettono al di sotto di una bestia immonda avete udito che fu detto vi prendo la lettura non commettere adulterio ma io vi dico che chi avrà guardato una donna con concupiscenza che chi è andata ad un uomo col desiderio anche solo con questo ha già commesso adulterio nel suo cuore sentite nessuna ragione giustifica la fornicazione nessuna corsivi è a tutte e due le nessune non l'abbandono il ripudio di un marito non la pietà verso una ripudiata vogliamo vogliamo parlarne di queste cose che dite amici cari se ne può parlare io parlo io parlo perché intanto ho sentito pure nel vangelo nessuno ma no padre ma io non è che mi sono risposato cioè non è che io ho voluto rompo un matrimonio per carità ma io sono stato abbandonato sono stata abbandonata ma perché devo starmi tutta un'altra vita da da solo o da sola io ho il diritto di farmi una vita si sente dire questo oggi l'avete mai sentito io sì ma Gesù dice nessuna ragione giustifica la fornicazione nessuna non l'abbandona il ripudi di un marito non la giustifica secondo Gesù non la pietà verso una ripudiata allora no ma io qua cioè io ero anche libero ma ti ho conosciuto sta donna poverina lasciata sola dal marito infelice cioè io mi sono sacrificato d'accordo perché potevo pure andrime a fare ma questa poverina gli ho fatto l'ho rimessa al mondo gli ho fatto riconoscere la vita gli ho fatto rivivere la vita no no poverina era stata ripudiata indegnamente ingiustamente perché il marito l'ha lasciata per andarsene con un'altra quindi poverina a Roma dicono cornuta e mazziata perché tradita e abbandonata Gesù non è d'accordo e prosegue avete un'anima sola quando essa è congiunta ad un'altra per patto di fedeltà non menta altrimenti il bel corpo per cui peccate andrà seco voi anime impure nelle fiamme inesauste mutilatelo piuttosto ma non uccidetelo in eterno dannandolo tornate uomini voi ricchi sentine verminose di vizio tornate uomini per non fare librezzo al cielo dico amici cari è sufficiente il ripertorio di nostro signore doveva metterci qualche altra cosa per far comprendere l'odio assoluto che Dio nutre verso il peccato e come questo però comporta anche perché è vero spero che si sia ripristinata la connessione su telegram qui allora è vero che si condanne il peccato ma non il peccatore certo ma è anche vero che il peccato non è che ha una sua sussistenza astratta eterea perché il peccato è commesso da qualcuno quindi si stigmatizza il peccato evidentemente ma è chiaro che si colpisce il peccatore non si condanna non si non si lascia spacciato il peccatore cioè condannare il peccato non è il peccatore non significa che tu al peccatore non gli puoi dire niente perché a chi lo dici non è che il peccato esiste attaccato al muro allora tu devi condannare il peccato te la prendi col muro dove ci sta scritto il peccato non è così sentine verminose di vizio non è rivolto in astratto è rivolto ai ricchi che diventano sentine verminose di vizio Maria che ha ascoltato in principio con un viso che era un poema di seduzione e di ironia quindi ve ne immaginate no? stavo ancora guardando Gesù era bello era non bello il più bello tra i figli dell'uomo dice il salmo 45 lo dico io avendo di tanto in tanto delle risadine di scherno solideva di scherno alla predicazione di questo bell'uomo che c'era nient'altro che mette da fare il predicatore secondo lei forse era meglio che fecesse altro no? quindi ascoltato in principio con un viso che era un poema di seduzione e di ironia avendo di tanto in tanto delle risadine di scherno ma alla fine del discorso si fa nera di corruccio capisce che senza guardarla Gesù parla a lei questa è un'arte tipica dei dei predicatori parlare nel mucchio specialmente quando per colpire qualcuno ma non per colpire per colpire al fine della conversione chiaramente capisce e deve capire che senza guardarla parla a lei il suo corruccio si fa sempre più nero e ribelle e all'ultimo ella non resiste si avvolge rispettosa nel suo velo e inseguita dall'occhiare della folla che la scherniscono e dalla voce di Gesù che la persegue si dà in corsa giù per la ghina lasciando lembi di veste sui cardi e sui cespugli di rose canine che sono ai margini del sentiero e ride di rabbia e di scherno la prima reazione pessima apparentemente ecco perché dico sempre i predicatori devono avere coraggio insomma qual è il coraggio di di attirarsi l'odio è odio a volte posso raccontare la storia che successe a un prete sapete cosa successe a un prete questo prete un giorno si ritrova come accade adesso nelle parrocchie prima di Natale o di Pasqua si fanno le celebrazioni penitenziali comunitarie quindi si chiamano un po' di preti di varie parrocchie in modo tale che ci saranno 50-60 persone a confessarsi si aiutano e si fa per le varie parrocchie un prete viene invitato in una parrocchia e va ad aiutare comincia a confessare un po' di penitenti a un certo punto arriva una penitente tutta come dire tutta concitata tutta emozionata agitata prime parole che dice questa persona al sacerdote padre avevo tanto pregato il Signore di poterla rincontrare perché io le devo chiedere perdono e chiedere perdono a me questo dice ma chi te conosce pensa non lo dice scusi ma di cosa io gliene ho dette dietro di tutti i colori si a me non sembra di ricordarla signora guardi un po' no no lei non si ricorda ma io si io una volta capitai in chiesa nella sua parrocchia e e e vieni a fare la comunione ero scollata a proposito dell'abbigliamento di meredina di magdala lei me l'ha data la comunione però mi ha detto non si azzardi più a ripresentarsi a fare la comunione in questo modo perché questo offende il signore ah guardi quante gliene ho dette e quante gliene ho dette in giro per tutto il circondario Dio solo lo sa ma quanto mi sono pentita perché poi ho capito solo che adesso io gli ho detto da tutti i colori mi dispiace tanto le chiedo scusa e quel seguito gli ho detto ma certo non ti preoccupare so cose che succedono l'importante è che ti sei convertita che hai capito che ti sei pentita e poi le chiacchiere pazienza chi può capire capirà capito? solo che molta gente dice ma come mai che tante cose oggi non le dice più nessuno voi pensate che in molti siano disposti a fare la fine di quel povero prete che si ritrova una montagna di fango gettata addosso per aver detto una cosa del genere non è un'esperienza gradevole io anche insomma ho avuto modo di saperne qualcosa di cose di questo genere però se c'è di mezzo il bene delle anime e se anche Gesù ogni tanto ci calcavo con la mano vuol dire che tutto sto gran sbagliato non sarà non si sarà da confessarsi troppi peccati per aver mancato troppo alla carità perché come dice c'è il buon Sampio che abbiamo festeggiato da poco la prima e più importante opera della carità è la verità si può mancare alla carità dicendo la verità? sì ma attenzione non si deve mai mancare alla verità in nome della carità perché io non posso non dire a una persona che sta peccando perché dico ma no poverina poi ci resta male e poi la mortifico cerca il modo di dirglielo con grazia ma glielo devi dire per il suo bene ci vediamo la prossima volta amici cari Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga